Hanno aperto il magazzino comunale caricato su un furgone e l'attrezzatura e poi sono scappati, ma prima hanno preso di mira anche il rimessaggio di Sei Toscana. È un colpo che potrebbe sfiorare i 100.000 euro quello messo a segno a Sansepolcro. E questo forse è l'aspetto più rammarica, perché veramente qui parliamo di soldi di tutti, di materiale di tutti. A fare la mara scoperta, il personale del comune all'arrivo al capannone lungo via Senese-Aretina ha notato ingressi forzati. Qui vengono custoditi gli strumenti del servizio manutenzione. Un danno veramente rilevante, hanno rubato tutta l'attrezzatura dei nostri operai comunali, dai trattorini tagliaerba, itosaerba, motoseghe, decespugliatori e anche altro materiale vario. Per quanto ci riguarda uno dei più grossi furti mai effettuati alla nostra attrezzatura, tra l'altro oltre che il danno c'è anche la beffa, perché i nostri operai sono veramente adesso anche sguarniti del materiale col quale devono operare quotidianamente. Ora ci stiamo già attrezzando per il riacquisto dei materiali più urgenti, delle attrezzature più urgenti. Visitata anche la sede Biturgenze di Sei Toscana, da dove ladri hanno portato via centinaia di litri di gasolio. Sull'episodio sta indagando la polizia di Stato, che ha già effettuato un primo sopralluogo. Solamente pochi giorni fa, un altro colpo nella zona industriale di Sansepolcro, nemmeno ad un chilometro di distanza in linea d'aria. Anche in questo caso i ladri si sono dati alla fuga con un furgoncino. Sembra che siano dei professionisti, perché sembra quasi che siano svaniti nel nulla. Comunque gli inquirenti stanno indagando, ci auguriamo che queste indagini possano avere un esito positivo. Di sicuro noi continueremo, per quello che è possibile, a mantenere alta la guardia sul controllo del territorio con i sistemi di videosorveglianza, che sono comunque uno strumento indispensabile.